Vediamo un po' cosa riesco a fare qui, allora, sarà 80, sarà 90 più o meno la larghezza di quello che hai, no? Eh, 90 per, oh no no, 40, vediamo la proporzione, va, ok, più o meno è quello che hai, no? Sennò mi sbaglio, millimetro più, millimetro meno, oppi là, 90 per 40, 90 per 40, ea, chiudi, c'entra, ok, adesso andiamo con un po' di testo, vediamo se troviamo quella lettera che hai usato, che è una lettera bella, un quadrattone, un po' di testo, potrebbe essere questa qui, vediamo, da corta a vetro, che è questa lettera, perché è tutta piena, è tutta, lei è già tutta incasinata di sé, allora, torniamo indietro, cerchiamo un'altra, no? Questa non ci guarda, che sia così strana, Swiss Raster, non ci interessa la Swiss Raster, vediamo un po', qua ci sono solo lettere, ecco qua, ecco qua, raccolta con due, con una C, con due, perché non so, andiamo a vedere lì, come tu l'hai scritta, hai scritto giusto? vediamo un po', due C, ok, andiamo qua, raccolta, vetro, e come l'hai fatto? che non mi ricordo più, se tutto maiuscolo o no, facciamo uguale, uguale, sì, siamo precisi, non so, adesso 5 minuti, approfitto per impratichirmi con la, ingraving, ah, tutto maiuscolo, ok, facciamolo tutto maiuscolo, dai, facciamolo tutto maiuscolo, a corta vetro, a corta vetro, chiudi, separiamo, hop là, separiamo le lettere, per poter muovere il, queste qui, facciamo, apriamo un po' questo qui, facciamo così, diminuiamo un attimino, e veniamo con questo qui. Ok, allora diciamo che voglio disagruppare tutti, separare tutti, e adesso ne agruppo a. Ecco, perché erano già sottagruppati, quando li ho separati rimanevano agruppati, ok, non abbiamo problema di vettori sovrapponendosi, ok, faccio una cosa semplice, prima cosa vediamo quale misura abbiamo, cerchiamo di capire. Ehm, non mi ha 58, era una 3 di altezza, più o meno, abbiamo fatto il calcolo, 3 di altezza, allora qui con la fresa da 3 non facciamo quasi nulla, eh, allora per sgrossare queste lettere qui per forza, facciamo un po', ecco, quindi diametro 3, cosa ci creiamo? devi andare con una fresa, devi andare con una fresa da 1 mm minimo qui, no? Puoi sgrossare con una da 3, dopo venire con una da 3, e adesso facciamo un'altra da 1,5, boh, anche i grandi anche i grandi a 1,5, anteprima, ok, chiudi, vedi perché anche con una da 1,5 non ci arrivi lì negli angolini, ok? Allora per forza, perché stavo dicendo che potevi usare l'engrave, no, potevi usare questa funzione qui, la incisione, o la fettura, lavorazione fettura, però né una né l'altra ti pulirà questa parte lì, mi sa che questa si potrebbe pulirtela, e la fettura è che non ti pulirà quella zona, la ingrave ti pulirà quella zona, eh, la dobbiamo capire un attimino, come fare? Diciamo che abbiamo queste due frese, ok, spostiamoli qua, da 3 e da 2, e facciamo prima una sgrossatura, selezionando tutti i vettori, che vogliamo farla qui, e non farà la sgrossatura qui, solo dove entra questa chicolina qui, ma con questa strategia della incisione automatica, il bullino mangerà dove la quella da 1 non è riuscita ad arrivare, penso, tanto adesso faremo profondità finale, 3, facciamo la sgrossatura qui, lavorazione in sicurezza, listi utensili, vettori sulla superficie, ok, vettori esterni sono in bondere, offset fondo utensili, vediamo un po' se mi ricordo, perchè qui non è che sto ricordando tanto bene, usiamo gli utensili, uno da 3, and milla da 3, uno da 1 e mezzo, and milla da 1 e mezzo, e un bollino da 60 gradi, che ci fa una parete da 30, 60 gradi, si perchè 90 è troppo, usiamo 60 gradi, vediamo un po' se mi ricordo, perchè avevo visto un video su questa funzione qui, ma non so se la saprò usare molto bene, perchè in realtà qui avremo un problema, perchè qui sono la vbit, non ha punta, no? vedi, ha da angolo, ma non ha punta, e in realtà, dovevamo usare, 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 delle, delle, flat conicola, capito? Che ha una punta, vedi, che dopo c'è il raggio piatto dell'utensile, e creare un utensile così, comunque proviamo a vedere cosa, cosa combiniamo con una vbit, diciamo che ha un bollino, da 60 gradi, ok? E qui perchè ho due, perchè uno l'ho dita a 60 gradi, metà angolo, e l'altro uguale, si, ah perchè dovevo fare una prova, alla fine non l'ho usato, usiamo quello lì, senza stare molto a vedere quali sono le impostazioni dentro, solo per vedere se funziona, andiamo un po', smart vbit, ok, passo piccolissimo, va bene, certesimo, altrimenti non avremo finitura, perchè, anche se ha punta dopo, prendendo una lupetta, una lente di aumento, e il comparatore vedrai che la punta c'è, sempre un certesimo qualcosa, anche un decimo delle volte, allora lasciamo qui quest'anno. Strategia di profilatura, il bordi, vediamo un po', vettori sulla superficie, si, vogliamo che i vettori siano sulla superficie, offset, fondotensile, questo non so perchè, non ho capito bene, cosa significa questo, vediamo un po', questo è in italiano, vediamo un vettore finale, flam, beyond, draw, vediamo l'engraving, questa è in inglese, ah ok, vettori, all'interno, offset, end news for engraving tools, offset, end news for engraving tools, ah si, qui ci chiedi di fare un offset nelle frese, di finitura, vediamo un po', lanzamento, rotazione, e qua non possiamo impostare l'assetto, qui, per lasciare un po' di materiale perchè il bullino mangi qualcosa, no? è solo che non ho capito dove lasciare questa, vediamo un po', che diamo qui, sovrametallo, ah ecco qui, sovrametallo sarà lasciato per, da questi due qui, lasciamo che soglie un decimo, ok, di sovrametallo, facciamo come vengendo in paralleli solo per vedere, materiali non li impostiamo, magari non ce lo fa, vediamo un po', in inglese, in inglese, intersezione di vettore, sta trovata nella selezione, oggi carico, cosa è entrata? boh, intersezione di vettore, si, vabbè, no, intersezione di vettore, fitte, che non siete altro, che vuoi dire? andiamo sull'assistente, qui, non abbiamo intersezione nessuna qui, ragazzi, siete sceme proprio, ah, qui, magari, vedete? separa tutti i vettori, e, e, boom, ancora un po', vediamo se c'è un altro, no, selezioniamoli senza raggrupparli, andiamo subito lì, dai, eravamo qui, bastava dire, adesso, ah, ah, chiudi, boh, non vedo il risultato, ah, perché questi qui non si sono, andiamo un po', eh, no, allora, torniamo, qui, e almeno, v-bit, v-bit su metano, ah, non abbiamo lasciato il metano, no, ma non è questo, e i vettori, togliamo la visibilità del percorso utensile, chiudiamo qua un attimo, e, selezioniamo tutti, raggruppiamoli, così non mi rompono più i coglioni, scusate la parolaccia, se c'è qualche bambino che ci sente, e, torniamo nella nostra strategia, vediamo un po', si, uh, buh, non so, sovra metano, buh, non credo di aver fatto la cosa giusta, non voglio definire il materiale, non possiamo vedere nessun vettore, ah, si, 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 è di selezionato quando ho aperto la, percorso utensile, adesso, ah, adesso l'ho fatto, no? Sì, toffetendo, ma, non vedo, non, non l'ho vista entrare dentro, diamo un po', non l'ho visto entrare dentro questo fedente qui mi sa che ci ha fregato eh ci ha fregato sì vedi non è entrato dentro simuliamo ah ma che fine di potana non ha fatto un cazzo perché? perché l'angolo dell'autenzio era troppo che autenzio l'abbiamo usato? da 3 mm di diametro 3 mm di diametro vediamo la e passo 3 mm di diametro se l'abbiamo editata bene sarebbe giusto comunque qui con 3 mm di diametro e 60 gradi non ci arriviamo a quello il punto spito questa è la la cosa da pensare perché si fatti caso qui ci sono i 60 gradi ma dopo i 60 gradi no 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 non può darsi che sia l'altezza che ha selezionato vediamo un po' offset fondo utensile no vediamo calcolo un'altra volta quel fondo utensile per cosa non contiene movimenti utensili potrebbe non adatta ma non riuscire a tagliare l'altro ok movimenti cambiamo no aggiungiamo uno da 30 gradi per vedere cosa se quello che sto pensando è giusto facciamo questo qui modifichiamo questo mettiamo ah sai cosa può essere anche adesso ho capito prima di di selezionare e cambiare questo qui facciamo annula annula e prendiamo end mill vediamo cosa è l'end mill è utensile numero uno che questo o si fa quel cambio utensile o si prende ognuno di questi percorsi dopo creati no eh sì e questo qui è il 2 e questo qui è il 3 ah mi sa che è questo qui boh proviamo e lasciamo impostata anche quella adesso 2 e 3 semplicissimo sempre lì siamo allora aggiungiamo quello che vogliamo aggiungere per vedere se è l'angolo dell'utensile e non è tanto l'angolo ma il diametro perché la cosa è troppo piccola l'angolo 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 questo lo cambiamo no modifica qui scriviamo 30 gradi qui scriviamo angolo compreso 30 gradi va bene come abbiamo fatto facciamo ok seleziona e abbiamo un altro lì e torniamo a calcolare adesso ricalcola ho visto con un bullino a 30 gradi mi è entrato lì ma 30 gradi non è che mi ha convinto molto vediamo vediamo la simulazione cosa va in fuori già è entrato dentro ma ha fatto schifo perché mi credo che ho lasciato l'offset qui qualcosa del genere e non ha lavorato come ci aspettavamo perché proprio gli angoli non combaciano no vediamo un po' togliamo torniamo alla edizione dell'ottesa selezioniamo questo qui rimuoviamo lasciamo solo quello da 30 gradi spieghiamo di calcolare adesso chiudi togliamo la simulazione rifacciamo con gli ultimi cambiamenti e un attimino abbiamo avuto un po' di successo facciamo una cosa togliamo un attimino questa andiamo nella vista 2D togliamo la visibilità per non confonderci percorsi no assistente aumentiamo un po' la risoluzione di questo modello perché anche se aumenteremo di tutto il modello non ci frega nulla perché stiamo vogliamo vedere un po' di risultati mille pochissimi minimo mille applica sì se no non riusciamo a far fare al programma movimenti di precisione su su quei vettori anche perché nella simulazione è più o meno quello che è no vediamo un'altra cosa editiamo un'altra volta editiamo andiamo nella vista 3D diciamo calcolare un'altra volta abbiamo tolto il bullino da da 60 gradi e messo uno di 30 gradi e vediamo cosa viene fuori e mi sa che un po' meglio e adesso ho aumentato la risoluzione del modello perché si vedeva proprio da schifo adesso va a lavorare il bullino via 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 non male ok questo è il risultato con la funzione engrave ok vediamo che si rinfreschi vedi 30 gradi proviamo con una 45 ma vedi già qua non entra più perché abbiamo parti troppo sottili vicine con che fresa vuoi entrare qui vediamo nel nostro lavoro qui tagliamo la visibilità e vediamo qui quanto abbiamo di distanza tra quel vettore e l'altro qui che non faceva la lavorazione qui ad esempio andiamo a prendere prendere il righello e con questo righello qui misuriamo bomba bomba abbiamo un millimetro qui non può entrare una fresa da 30 gradi cioè non arriva fino in fondo capisci cosa voglio dire allora chiudiamo torniamo nei percorsi editiamolo un'altra volta al posto di questa qui la rimuoviamo noi aggiungeremo non una da un e mezzo ma una da un millimetro e questo dobbiamo copiarla e rifarla modifica ball end da un millimetro 1.0 diametro 1 passo in z vabbè non importa ok selezioniamo quella la mettiamo come seconda nominiamola come 2 perché questa è importante 1,2,3 vedi questa qui 3 deve essere e questa qui 1 2 2 e 3 e adesso rifacciamo il nostro lavoro e penso che adesso l'abbiamo beccato questa proviamo calcola di osservo sto capendo chi calcola sta calcolando quella da un millimetro mi sa che mangerà un po' di più e vediamo la simulazione come viene poi simula sgrossatura da 3 sgrossatura da 1 bollino mangiando attorno finito finito c'è un po' meglio ma in questi spazi qui ti rendi conto che abbiamo poco spazio no? ok? ok? mi sa che più di questo non si riesce almeno di usare una fresa più sottile e facciamo la prova con la fresa io ho frese da 10 gradi ad esempio no? questa la togliamo rimuoviamo questa e aggiungiamo una che ho io che è 10 gradi non mi ricordo se l'avevo messa qui e questa qua che ha anche una punta 10 gradi con la punta di 0,1 decimo ok? selezioniamo questa la nominiamo come terzo utensile e rifacciamo sto percorso adesso e con questo siamo riusciti ad arrivare al risultato penso attento vai vai è finito chiudi simula per piacere anzi non dovevo simulare sì dovevo simulare ma non sopra l'altra simulazione adesso la cancello anche se questa mangerà di più guarda che carina va a mangiare tutto ecco qua capito allora alla fine abbiamo dovuto usare un utensile da 10 gradi se no non si riesce a entrare dentro queste lettere qui e l'angolo è venuto con 10 gradi conclusione qua o fai la lavorazione 3D o nulla capito qua l'altra soluzione sarebbe sto vedendo come farei io no le cose io risolvo alla mia maniera e ci riesco no cioè voglio farlo e lo faccio togliamo la visibilità facciamo che questi qui soltanto questi qui selezioniamo solo questi qui ah li ho ragupati per quello non si selezionano da solo separiamo tutti i vettori selezioniamo solo le lettere diamo un offset di boh 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 offset offset eh questo che sto facendo qui eh eh così eh ragazzi oh eh eh non è semplice no facciamo un offset da un millimetro per non far andare troppo margine ad errori eh sterno non cancella i vettori e facciamo offset ok questi offset che ho fatto appena adesso sono eh selezionati approfitto che sono selezionati e li raggruppo per dopo non stare a selezionarmi no ok chiudi questi qui saranno eh i vettori dentro questi vettori qui dove farò la lavorazione 3D ma solo in questa zona qui questi selezionati con questo qui vado percorsi allora posso fare una sgorsatura se voglio ma posso anche fare una sgorsatura non una sgorsatura ok profondità 0 3 mm se non mi sbaglio l'attesa profondità finale 3 se di sicurezza vabbè questo lo verrai tu noi andiamo con la quella da 3 uguale e aggiungiamo una da 1 invece di 1 e mezzo perché abbiamo visto che quella di 1 e mezzo non è che è arrivata molto opa no 0 1 da 1 selezioniamo quella da 0 1 avevo fatto per passare sopra una cosa che volevo fare l'una questa che facciamo che sia la seconda e qua facciamo solo la sgorsatura di quest'area qui per dopo fare una lavorazione 3D là dentro e diciamo calcola adesso andiamo un po' ok chiudiamo adesso togliamo la visibilità dei percorsi e selezioniamo solo questi qui attorno alle lettere e andiamo a fare una lavorazione 3D vettore selezionato possiamo lasciare i piani parallelli vabbè e l'utensile usiamo un utensile ad angolo giudio 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 quella tapper da 10 aspetta no si è giusto quello che sto facendo ma mi sono dimenticato di fare una cosa importante no cancella non volevo fare adesso chiudi mi sono dimenticato di fare la cosa più importante che è prendere le lettere allora facciamo così seleziona tutto tasto shift togliamo quelli aggruppati sono rimasti solo le lettere e aggruppiamole a sua volta su un altro punto prendiamo solo le lettere e andiamo sulla vista 3d a vedere cosa succede andiamo con il shape editor il modifica della forma aspetta che si riflessi l'immagine qui modifica della forma su vettori selezionati selezioniamo un'altra volta solo le lettere e quell'offset attorno adesso magari lo rifaremo vediamo un po' dove vanno a finire le lettere e diciamo che vogliamo fare una piramide da 4 gradi sembrava che fosse carino lì proviamo con questa qui ma dopo non abbiamo la parte interna mi fermo ho provato a creare la paretina la parete angolata qui ma non non sono riuscito ma nel frattempo mi è venuta un'altra idea che magari non ho rilievo che magari può andare bene ma non credo no non può andare bene no perché farei un questo offset qui facevo una lavorazione vobit ma troppo poco troppo poco per poter fare perché una fresa da 60 come tu volevi usare qui tu fai farai l'angolo da 60 qui ma dopo come fai a fare dentro l'angolo da 60 vedi che nella tua nella tua nella tua simulazione cioè non sei riuscito a entrare qui dentro perché proprio non c'è l'angolo non ci arriva vedi qua non ci arriva complicata sta cosa complicata sta cosa magari proviamo con l'avobit ma non ci credo proprio proviamo l'avobit mi fa interno si mi fa interno ma dopo mi mangia quest'angolino qui capito proviamo cominciamo da zero vabbè utensili proviamo uno da 60 come tu hai detto che volevi usarlo ma sa 60 mi sa troppo e linee centrale proviamo perché lui mi fa mi mangia si dentro ma mi mangia l'angolino della lettera e dopo vediamo il resto come rimane ragazzi le dimensioni del greso non sono state definite imposta cioè facciamo v4 vai ok adesso chiudi e facciamo la simulazione della sgrassatura o di questo svuotamento qui facciamo di questo svuotamento secondo qui che ho fatto quel vettore offsetato ho fatto lo sgrossamento togliamo la disabilità aspetta un attimo ho fatto lo sgrossamento usando questo vettore qui e questo di fuori no? adesso adesso simuliamo questo svuotamento ok e proviamo su di lui a buttarli una incisione in linea centrale nel contorno v vediamo cosa viene fuori ecco qualcosa è venuta fuori solo che la linea centrale ecco adesso ho capito cosa dobbiamo fare perfetto sì ma comunque non avremo mai il risultato questo è quello che abbiamo togli vedi che la linea centrale facciamo l'offset togliamo questo offset qui togliamo questo offset togliamo questo magari riusciamo vedi che anche l'offset non ci riesce ad entrare vediamo più ok allora cosa dobbiamo fare lasciare che questo qui sia la linea centrale perfetto oh proviamo allora due di questo qui ho capito adesso allora copiamo questo qui portiamolo su un altro in colla e lasciamo visibile l'altro disagruppiamo questo qui questo separato di vettorio abbiamo questo qui e adesso questo non lo vogliamo questo non lo vogliamo cancelliamo questo si questo no questo devo guardare per vedere cosa sto togliendo questi due no questi due no ok aspetta anche questi no questo no noi abbiamo noi abbiamo già questi vettori interni qui no facciamo così coppiamoli anche quelli lì coppia e incontro abbiamo già questi vettori interni qui e abbiamo detto alla vb di farci lavoro dentro quest'area qui ma in realtà si è rivelato poco allora prendiamo questi di fuori o meglio ancora questo qui l'abbiamo fatto con un offset da vediamo un po' cosa abbiamo combinato qui mettiamo una misura così un millimetro ok chiudi c'era già impostato anche nell'offset un millimetro allora cosa facciamo prendiamo solo le lettere coppiamo un altro livello qui prendiamo queste lettere qui ce le coppiamo un altro un altro andiamo su un altro livello solo per non perdere cola e facciamo un offset da due vediamo un po' cosa succede sterno cospigolo può essere cospigolo ok adesso selezioniamo questo sterno questo interno andiamo nei percorsi e lo rifacciamo perché questo lo lasciamo qui solo per magari poter ragionare lo rifacciamo profondità iniziale zero seleziona facciamo la linea centrale limitiamo l'altezza la profondità massima a tre vediamo cosa succede e selezioniamo il nostro utensile che era quello da sempre da 60 60 gradi ok creiamo la linea centrale vediamo cosa ci combina chiudi chiudi andiamo vista 3d togliamo la simulazione che potevamo anche lasciarla simulazione togliamola e facciamo lo svuotamento simulo svuotamento qua non c'entra nulla questo che state vedendo nella vista 3d lì non è stiamo facendo lavorazione sotto il vettore quella da 1 e adesso la nostra incisione in linea centrale con i vettori quelli allargati non ho salvato la lavorazione incisione in linea centrale vediamo un po' allora questo qui lo cancelliamo facciamo lo svuotamento lo simuliamo simulare c'entra nulla con il modello 3d e la vbit selezioniamo questi vettori qui e la rifacciamo editandola ah perché adesso non avevo rifatto la selezione del vettore eh sì sì linea centrale adesso profondità non l'avevo limitata aspetta che sta calcolando limitiamo a 3d adesso un'altra volta vogliamo limitare sta calcolando ancora chiudiamo la profilatura l'avevamo già fatta questa è la vbit se non mi sbaglio ma non mi sa che ancora non siamo lì non ho capito perché adesso ci siamo dai manca solo l'altezza ecco qua cosa abbiamo qui di altezza 0 e qui meno 3 più spra abbiamo limitato a 3 la fonda perché vediamo un po' ah spravo doveva perché l'angolo non arriva di più ecco l'osservo doveva essere maggiore ancora lì l'offset da 3 mm vediamo un po' l'altro livello lasciamo sempre quello lì prendiamo l'ettere copia vogliamo facciamo l'offset e con questo finisco perché oggi sono il cuoco io qui a casa devo lavorare sulla cucina posso stare qui eh ride mia moglie che mi sta aspettando facciamo una paella forse andiamo un po' cosa viene fuori da 3 limiti chiudiamo percorsi percorsi selezioniamo quelli esterni quelli interni vbit creiamo un'altra senza editare quella lì selezioniamo l'utenza sempre 60 gradi come tu voleri usare eh 60 gradi selezioni limitiamo l'altezza a 3 o magari questo è il limite qui no ma dopo non ci va a casinare la linea centrale vai adesso sta calcolando e con questo chiudo perché dopo se mi siedo qui c'è risolto il problema non è che ma insomma adesso sono un po' stacchino raccolta vediamo un po' cosa viene fuori fino a dove è arrivata mi sa che siamo arrivati mi sa che siamo arrivati allora il suo visaggio è finito resta con i perlusconi e non va più confini non è assolutamente breve vuoi vedere che sta prendendo sta prendendo il rilievo la mia sofferenza è stata trasmessa al leader gli ho spiegato che il mio cuore sta con lui la mia testa sta con fini ma com'è possibile che un senatore della Repubblica Italiana soffra e come può un cittadino capire una cosa simile ecco togliamo i gilievi e rifacciamo perché mi sa che questo rilievo sta stava un po' attuando agendo e rifacciamo tutto com'era adesso vediamo se cambia questa riga qua sotto sta calcolando uguale va bene vediamo adesso il risultato simuliamo lo svuotamento quello primo si come ha preso da 3 fesa e fesa da 1 abbiamo lasciato un bel offset e qui ah ho capito adesso cosa sta succedendo l'offset la svuotatura anche doveva essere stata rifatta su quel vettore grande è ovvio cioè l'ultima vobit che adesso magari ci da un gradino qui ovvio che ci da i gradini è stupidone no non voglio ereditare voglio proprio farlo allora era giusto quello che avevo fatto giustissima questo gradino qui sta succedendo per via del vettore che avevamo selezionato prima allora diciamo così vogliamo la giudità vedi questo vettore qui è lontanissimo dalle lettere no e quando facciamo la vbit vcard qua in mezzo vediamo un po' vedi la allora per capirci la vbit agirà attorno a questo qui e attorno a questo qui creando una linea centrale ma vedete che questo qui non è al centro di questo vettore più questo vettore qui è spostato mangia di più del centro allora noi dobbiamo riportare al centro questo vettore qui in realtà e allora usarlo per fare uno è selezionato e allora usarlo per fare la sgrossatura ma la sgrossatura no 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 deve mangiare fino a un certo punto no no so che adesso mi sono incantato qui ma l'ho fatto aspetta regina che arrivo con la paese prepara l'ingrediente lì vabbè oggi sono un po' contento dai allora facciamo un attimino facciamo un attimino una misurazione qui solo perché a voi sia più chiaro quello che sto ragionando no avevamo le lettere ok dopo avevamo fatto un offset attorno alle lettere e svuotato attorno a questo offset e lui mi ha mangiato fin qui quando ha creato quest'ultimo offset a partire dalle lettere di 3 mm no questi due che sto selezionando adesso le lettere più questo qui per fare il vbit il vbit agisce sulla linea centrale che è più o meno dove ho il base adesso questa prima riga che adesso la seleziono prima offset per fare la svuotatura è troppo lontano dobbiamo rifarlo no come era aggruppato adesso posso usarlo aggruppato per vedere con l'offset facciamo di decimi 0.1 prima lo copiamo lo mettiamo nel nostro livello qui questo qui e diciamo a questo smuso qui che si va facendo si comincia a ingrandire al decimo bomba 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 e bomba siamo precisi qui non so vediamo cosa abbiamo qui aumentiamo un po' ancora per avere una misurazione più precisa allora sono sopra un vettore bomba e voglio andare sopra l'altro che siamo a meno di 3.000 e qui invece siamo a 1.4096 perfetto siamo a metà dai diciamo che l'abbiamo fatto allora questo nuovo vettore a bordo della 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 nostro lavoro è quello che useremo adesso per fare assieme a questo qui lo copiamo copiamo incolliamo se il nostro livello definitivo perché qui abbiamo fatto tutte le trasformazioni questo vettore interno stato vettore interno sto pensando qui se questo qui ci cambia qualcosa non ci cambia la vita nemmeno questo qui e questo stato che ho appena copiato qui sono la zona che faremo la svuotatura ora facciamo questa decisione automatica non siamo riusciti a fare la cancelliamo svuotamento sì questa linea centrale qui la cancelliamo siamo rimasti solo con lo svuotamento con la presa da 3 e da 1 lo rieditiamo selezionando i vettori e questo qui è dicendo al nostro profondità 3 mm di rifarlo lui è più vettori sono sovrapposto ok ok vediamo cosa è sovrapposto qui quello succede sempre qui non credo qui vediamo boh vediamo vediamo facciamo così selezioniamo questo e quell'altro aggruppiamoli per vedere se c'è qualche problema raggruppa no non c'è problema non si sovrapponga questo di fuori no non credo aggruppiamolo da solo lui no non ha problemi ok va bene selezioniamo questo e quelli interni per la svuotatura diciamo adesso adesso l'ha fatto certo era era una impuntata del programma ok vista 3D abbiamo l'ultima simulazione togliamola ritorniamo a fare lo svuotamento adesso abbiamo aumentato l'aria per avvicinare regioni regioni e comuni le parla in età ecco alla linea centrale della vbit abbiamo fatto la simulazione di uno andiamo sulla vbit adesso 60 gradi bullino vai bullino lavora mannaccio che devo andare a tra i 7 miliardi originali a poco eh la ragazzi oh finalmente allora come avevo intuito la prima volta che ti avevo detto la migliore cosa è fare l'offset e lavorare con la eh strategia vbit da un offset che abbiamo creato pian pianino ad hoc per fare queste lettere vedi se tu qui volessi continuare vuol dire che eh l'offset che abbiamo fatto in mezzo togliamo la visibilità di questa svuotatura l'offset che abbiamo fatto in mezzo questo qui in mezzo alle lettere perché le lettere più quest'altro offset qui sono la zona doveva fare lo svuotamento la vbit la strategia vbit e crea una linea centrale noi abbiamo misurato ad occhio questa linea centrale lì e detto alla svuotatura che venisse a fermarsi qui con diciamo un'ottensile qui no? che venisse a fermarsi qui con l'ottensile di svuotatura ok? adesso guardando qui si capisce che ancora un attimino o un pochettino aspetta che si rinfresca di maga ancora la svuotatura è entrata troppo bene bene vediamo che si rinfresca e noi possiamo dire alla svuotatura di ancora questo vettore qui venire un po' più fuori rifare la sgrossatura con questo vettore ossettato di poco facciamolo facciamolo vai che ci costa? oppse ah chiudi adesso questi qui li aggruppiamo perché sono i vettori che noi vogliamo togliamo questo vettore di qui cancelliamo la presa che abbiamo messo lì l'ottensile prendiamo questo tasto C prendiamo questo qui che è la selezione del nostro votamento selezioniamo un'altra volta lo rifacciamo no aspetta cancelliamo chiudi togliamo visibilità selezioniamolo editiamolo e dobbiamo selezionare quel tasto shift questo qui adesso dice adesso ce lo rifà chiudiamo andiamo nella vista 3D togliamo la vecchia simulazione che c'è quel grandino ancora e vediamo se con l'offset di un decimo abbiamo beccato il nostro lavoro e concludo per poter fare la taglia tanto desiderata ok simula percorso ora basta linea centrale e via eccola ancora non vuole proprio sapere c'è qualcosa che era il contrario vediamo un po' se riesco a capire ah era il contrario vedete e qua aspetta che si rinfresca l'immagine era il contrario era interno e dobbiamo capire questa distanza chi di quant'è vuoi vedere che le becchiamo subito allora vediamo un po' percorso terza farci le simulazioni con rilievo facciamo GGG facciamo sul desktop togliamo la simulazione non è l'assistente perché abbiamo bisogno dell'instrumento misura carichiamo quel livello lì GGG apri di quelle feste nessuno pubblicerebbe le scopo dice Corona non c'è nessun giornale che l'avrebbe pubblicato nessuno che l'avrebbe pubblicato ok questo è quello che avevamo in simulazione che ho salvato come rilievo per capire cosa mettiamo in Z visibilità in Z mettiamo spostiamo andiamo nella vista 2G c'è una scala di grigi togliamo la visibilità della scala di grigi e anche dei percorso e tenzi vediamo con i vettori cosa abbiamo di sbagliato anzi possiamo vedere anche con ecco qua con questo qui questo vettore è qui e noi lo vogliamo più interno di quanto scala di grigi vediamo un po' un attacco della cattedrale e gli attentati ieri e la tua l'estanza e la tua aumentiamo qui saremo qui in questi casi quando c'è una cosa come questo aumentano queste domande e certamente questo segno che ai tuoi fiati un attimo di più è esagerato sto programma anche sto modello diciamo nel programma in sé torniamo nella vista 2D senza visibilità di nulla selezioniamo questo qui tasto C selezioniamo questo qui che è proprio quello che avevamo aumentato andiamo sull'offset e facciamo interno offset chiudi raggruppa tutto e quelli lì e rifacciamo selezionando il nostro percorso testo svuotamento editare nell'edizione riselezioniamo quello un pochettino che ha selezionato gli altri sbagliati uno tasto shift e due chiudi 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 edizione perché non ne fa cauti tasto shift anche questo qui lo vogliamo selezionare adesso che l'ha fatto chiudiamo si muoviamo si muoviamo si muoviamo si è incantato ed è stata appoggiata anche da personale che è impiegato l'unico paure e ricordi che gli uomini hanno convinto la borgina di dei propri a ritirare il morto rinfresca le mani e simuliamo anche questo qui siamo arrivati vicinissimi ok niente da fare l'unica cosa da fare qui sarebbe fare questa lavorazione WB sportarla come abbiamo fatto noi ma senza la sgrossatura per capire il contorno qui dov'è con un vettore di contorno ma comunque vai è arrivato vicinissimo tanto io non devo fare questa taglia con quello che ti sto facendo vedere magari tu ci riesci bene ma non è così tanto comico una cosa mi viene in mente adesso sai cosa che noi lo possiamo fare questa cosa che noi qui facciamo un po' qui cos'ho 2 punto 34 e 5 2 punto 4 e da 3 siamo a 2 punto 4 questo vuol dire che siamo a 06 meno 06 vuoi vedere che lo frego questa qui togliamo la simulazione e di dire e di dire che vivono nel calza mia che devo pagare e lo svuotamento edichiamolo non vuole profondità voglio 2.6 vediamo un po' e qua stiamo facendo una pagliacciata con i nostri amici i vettori sono selezionati vediamo se continuano quando facciamo le edizioni si 2.6 2.6 adesso senza nulla così non ci illudiamo se c'è qualcosa che situazione è in più di trovare di livello senza nulla ho detto ecco e svuotamento ancora e adesso linea centrale oh siccome questa non l'ho beccato mi fermo qui lo stesso dai ragazzi adesso ho le mie cose da fare su è andata vai ancora c'è qualche decimo lì eccola ancora c'è un ho salito troppo 2 veniamo un po' e ci arriviamo lì perché adesso ho testato perché se non faccio così non avrei imparato nulla togliamo una 2.6 a 2.5 come no togliamo la simulazione 2.6 2.7 2.7 orsi andiamo se vittori sono selezionati e togliamo la visibilità di questi qui sono cinca e e gettiamolo 2.6 2.7 2.7 adesso chiudi simulato ecco qua si vede il risuardo tutto la visibilità e poi l'arri e sono l'altro l'altro l'arri ho cominciato 15 anni io andavo l'arri e questa farsa l'arri centrale l'arri hai dovuto l'arri tre mani c'è c'è sempre una piccola differenza che ragazzi meglio di questo non ci riesco a pensare qualcosa che sia ah mi ha svoltato tutto il lavoro ah no eh no cioè alla fine parecchio ah così no certo che magari non sono riuscito ma insomma me la facciamo vedere ah no si era qui io mi sono era lì era lì la sottatura era lì simula tutti i percorsi simula tutti vai 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 simula simula di fretta di fretta il giorno di la vetrana incrostata suarriverà la decisione sulla richiesta di scacolazione di Sabrina per il medico legale l'arma del delitto è scompatibile con una cintura inviata Sara Paola sarà scarsa è morta in due tre minuti senza opporre resistenza soffocata da una cintura unità di 2,6 cm l'arma del delitto per la prima volta in modo inequivocabile la individua il medico legale Luigi Strada che ha conciuto l'autostia sul corpo di Sara la sua periccia la sua periccia è stata depositata stamattina nella nuova udienza del Tribunale dell'esame che dovrà decidere se non mi fa come voglio fermo vuoi fermare la simulazione? sì bravo sì ciao 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 ciao